L'ibrido è inutile oppure l'ibrido è una truffa? Un commento piuttosto comune sotto i video in cui si parla di questo argomento o sotto anche i post sul web o comunque parlando insomma così con persone che non credono appunto che questo sarà una risposta efficace al tema ambientale. In realtà questi dubbi non sono del tutto infondati e in questo video vorrei raccontarvi un po' di più di quello che penso ma soprattutto andare a snocciolare alcuni dati importanti per capirci qualcosa in più sul tema. L'ibrido come sistema di trazione è stato pensato per ridurre le emissioni quindi l'inquinamento e anche i danni alle persone e all'ambiente. Nel corso degli anni però si è arrivati ad una complessa questione che va trattata con attenzione senza generalizzare troppo e bisogna comunque anche fare attenzione perché qua si parla di interpretazione della legge anzi dei regolamenti. I regolamenti europei sulle omologazioni dei veicoli seguono un discorso molto logico quando si parla di ibrido infatti per ibrido si intende un risultato tra l'unione di due entità molto diverse e infatti il regolamento numero 46 del 2007 europeo sull'omologazione dei veicoli cita così Veicolo elettrico ibrido è un veicolo ibrido che per la sua propulsione meccanica trae energia dalle due seguenti fonti di accumulazione dell'energia installate a bordo un carburante di consumo e un dispositivo di accumulazione dell'energia elettrica ad esempio batteria, condensatore, volano, generatore eccetera. Quindi l'unione tra elettrico e carburante di consumo come detto dal regolamento europeo permette di avere comunque l'omologazione ibrida non si fa differenza tra mild hybrid, full hybrid e plug in hybrid comunque i vantaggi di questi sistemi di trazione sono molto diversi e li abbiamo già avuto modo di sottolineare tantissime volte perciò parlare soltanto di ibrido è sbagliato bisogna comunque andare nel dettaglio e capire quali sono le differenze a livello locale ci sono comunque dei vantaggi per i possessori di automobili ibride che però purtroppo molto spesso vanno semplicemente a compensare l'aumento in listino perché le automobili ibride costano quindi quelle normali possono costare 1000, 1500, 2000 anche di più a seconda della tecnologia utilizzata ma è chiaro che se il listino mi costa 1000 euro in più perché magari è definita come ibrida una versione mild hybrid a quel punto nel corso degli anni vado semplicemente ad ammortizzare quella tecnologia e quella dicitura ibrida quindi vado di fatto ad avere dei vantaggi locali che mi permettono di risparmiare nel lungo termine ciò che in realtà ho speso all'inizio e questo ovviamente è scorretto anche perché in realtà il vantaggio di una full hybrid e di una plug in hybrid è decisamente superiore rispetto ad una mild hybrid abbiamo già parlato diverse altre volte di queste distinzioni da fare quando si parla di ibrido e come abbiamo visto anche ci sono delle normative che impongono ai costruttori di andare proprio in questa direzione per cercare di ridurre il più possibile soprattutto in fase di omologazione appunto le emissioni di CO2 soprattutto perché su questo si basano appunto le sanzioni in arrivo nel corso di quest'anno ma in realtà per la fine dal punto di vista dell'utilizzatore finale o semplicemente dal punto di vista dell'inquinamento ambientale questi sistemi funzionano, sono utili? Ho preso i dati dichiarati di modelli con e senza ibrido Hyundai Tucson ha un motore ibrido 1.6 diesel, 48 volt, mild hybrid e poi c'è anche la versione non ibrida, sempre 1.6 diesel sia le emissioni con il ciclo NEDC che VLTP sono inferiori per quel che riguarda la versione ibrida stesso discorso per il consumo medio, sempre espresso in ciclo NEDC e VLTP non è facile trovare auto paragonabili che abbiano sia la motorizzazione ibrida che quella non ibrida nella gamma e che quindi possono permettere un confronto veramente completo avete visto però dalla tabella come scendano sia i livelli di emissione che anche i livelli di consumo interessante notare che il ciclo VLTP che comunque porta ad avere anche un utilizzo più severo della vettura nel ciclo di omologazione porta a calare del 50% la differenza anche in termini di consumo e questo è un elemento importante su cui torneremo tra pochissimo prendiamo altre due auto di pari categoria, Toyota RAV4 da 218 CV e XC60 T4 da 190 CV vedete come il consumo urbano, exurbano e combinato scenda moltissimo nel caso della RAV4 rispetto alla XC60 le emissioni di CO2 anche in questo caso scendono moltissimo in questo caso si parla di vetture simili per categoria e ho anche selezionato una vettura la Volvo XC60 che sia molto simile come potenza rispetto alla Toyota RAV4 la quale ha comunque più potenza ma ha minori emissioni e minori consumi a livello dichiarato attenzione però che come abbiamo detto diverse volte le auto ibride vanno guidate con un criterio con certe tecniche che non sono diciamo esoteriche assolutamente ma vanno comunque apprese e capite quindi è una guida diversa rispetto all'automobile a cui siamo abituati se non si utilizzano degli accorgimenti che ripeto non sono difficilissimi da poter imparare ma comunque se non si utilizzano questi accorgimenti in questo caso non si hanno i vantaggi delle full hybrid la Toyota RAV4 può viaggiare anche soltanto in modalità elettrica seppur per pochi chilometri magari in città e avete visto nel caso del consumo dichiarato in città quanta differenza ci sia quindi si può essere utile andare a pensare di spendere qualcosa in più per un'ibrida pensando poi di risparmiare in futuro sul carburante però è anche vero che se non si utilizzano le hybride con un certo criterio soprattutto le full hybrid si rimane assolutamente delusi prendiamo un'altra vettura con due tipologie di trazione la Peugeot 3008 plug-in hybrid e quella 1.6 benzina sempre paragonabili come potenza i consumi dichiarati della plug-in sono soltanto quelli combinati 2,2 litri su 100 km molto diversi come vedete rispetto alla 3008 1.6 benzina e calano di moltissimo anche le emissioni 49 grammi al chilometro per la plug-in hybrid contro 129 come avete visto nei confronti abbiamo utilizzato tutti i dati dichiarati i cicli di omologazione sono gli stessi e le regole sono uguali per tutti quindi in questo caso è chiaro che si vanca ad utilizzare delle tecnologie che permettono di avere migliori risultati all'interno di questi cicli di omologazione ma per quel che riguarda invece l'utilizzo finale nella guida, nella vita quotidiana qua posso darvi anche un elemento in più ossia quello che ho potuto vedere da vari test drive che abbiamo fatto su queste tipologie di veicoli quindi chiaramente le automobili ibride aiutano a ridurre le emissioni e l'inquinamento e anche i consumi all'interno del ciclo di omologazione e la stessa cosa fanno all'interno della guida reale ma in misura molto inferiore infatti soprattutto nel caso delle mild hybrid che sono poi anche quelle più diffuse si può utilizzare in maniera intelligente il sistema ibrido quindi per andare a sfruttare lo spegnimento del motore nelle ultime fasi di decelerazione magari al semaforo allora in quel caso si può fare perché lì vai effettivamente a ridurre un po' il consumo e soprattutto a sfruttare quel motorino elettrico nelle fasi di accelerazione ma è chiaro che il consumo non calerà drasticamente un po' come mostravano come avete visto i dati dichiarati un po' come mostrano anche le nostre prove su strada per quel che riguarda invece le full hybrid c'è effettivamente un incremento del vantaggio competitivo rispetto ad altre motorizzazioni infatti un ibrida full hybrid può arrivare comunque a garantire dei livelli di consumo simili al diesel e poi ci sono le plug in hybrid, le auto che riescono a dare il meglio nel momento in cui potete ricaricarle magari la sera o comunque per qualche ora fino poi al raggiungimento della massima carica del pacco batterie che è più grande rispetto alle full hybrid e che permette di viaggiare magari 40, 50, 60 km solo in modalità elettrica in questo modo quindi si possono sfruttare le potenzialità di una macchina che viaggia praticamente sempre a batteria nel classico viaggio casa lavoro e poi magari può anche fare affidamento sul motore a combustione nel momento in cui la macchina termina la sua batteria quindi come avete visto durante il ciclo di omologazione l'ibrido effettivamente ha un impatto questo è importante più che altro per il produttore nella vita reale come vi dicevo è importante poi andare a stabilire quale tipo di ibrido portate a casa e soprattutto con quale differenza di prezzo chiaramente sempre parlando di prezzi sul nostro sito trovate tutti i listini di tutte le automobili ibride potete paragonarle l'una all'altra tra i diversi modelli o tra le diverse motorizzazioni per capire quali sono le differenze il mio consiglio personale è quello di andare a provare sempre e comunque le vetture soprattutto cercare di capire se il proprio stile di guida si può adattare può tirare fuori il meglio dalle automobili ibride soprattutto full hybrid e plug in hybrid con attenzione anche rispetto alle mild hybrid che comunque riescono a dare qualcosina ma senza poi andare a rivoluzionare la vostra esperienza d'uso quindi attenzione anche appunto alle differenze di prezzo in questo senso noi ci vediamo al prossimo video sempre qui su 3FK mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella per ricevere tutte le nostre prossime notifiche ciao a tutti ciao a tutti